Stare bene scoprendo la natura, è questo il principio che ha spinto il signor Giovanni Ambrogio, un vivaista bresciano, a curare le malattie di cui soffriva, colesterolo, gastrite, artrosi, in modo naturale con una pianta originaria del Giappone, il Gimpent. Gli effetti benefici furono così immediati che Giovanni decise di importarla e di riprodurla nel vivaio aziendale. Ci sono voluti anni prima che la pianta si abituasse a sopravvivere agli inverni del nord Italia e molti tentativi prima che Giovanni e suo figlio Marino ne ricavassero una gamma completa di prodotti naturali per il benessere di corpo e mente. È stato scientificamente provato che il Gimpent, ambientandosi in Italia, ha aumentato il suo principio attivo e dal 1998 il Gimpent è protetto da brevetto europeo. Il Gimpent è un ottimo rimedio naturale per chi soffre di ansia, stress, affaticamento, promuovendo rilassamento e benessere fisico e mentale. Cardiopatie, agendo sulla regolare attività dell'apparato cardiovascolare, pressione del sangue, colesterolo, mantenendo livelli normali di colesterolo nel sangue, ipertensione, diabete, gastrite, controllando l'acidità gastrica, bronchite, influenza, allergie. Il Gimpent interviene anche sul microcircolo alleviando la pesantezza delle gambe ed è un ottimo antiossidante contro l'invecchiamento. Di fronte a una o più patologie, gli integratori alimentari a base di Gimpent di Ambrogia Italia agiscono favorevolmente sull'organismo. Per conoscere nei dettagli tutti i prodotti e le loro proprietà cliccate sul sito ambrogiitalia.com